Chi si aspetta il solito editoriale, video intervista, scusa Massimo, non ti voglio dobbare l'editoriale, quello è tuo. Chi si aspetta la video intervista con annesso sfoco? Oggi rimarrà parecchio, parecchio, ma parecchio deluso perché io voglio fare un grande in bocca al lupo al mio amico Simone Carori che ha preso una bella carta da operare, una situazione che solo chi ama l'assanzo può prendere in mano e lui è un grande semanturro e ero sicuro, ero sicuro che non avrebbe mai esistato a prendere Assanzo in corsa anche solo per questa partita che è importantissima. Andiamo a Ponzac per prendere questo punto. Andiamo a Ponzac a questo punto, a questo punto guardiamo che cosa succede perché le cose sono cambiate, abbiamo mandato il vero allenatore che è quello che volevamo, io in primis e quindi andiamo a Ponzac e guardiamo quello che succede. Angolo Futsal. Angolo Futsal non c'è assolutamente da dire altro, da spiegare altro, se non che sabato sboccheremo alle 18.30 al pallone contro Futsal Cesena, prima partita dei playoff. Quindi ore 18.30, facciamoci sentire, andiamo tutti al pallone perché abbiamo raggiunto un sogno. Ciao a tutti.